ciao benvenuti a tutti vediamo con quale strategia abbiamo fatto il trade in intraday oggi con la nostra app per cellulari la coppia sulla quale abbiamo operato è USDCAD dollaro statunitense contro dollaro canadese il time frame è il 15 minuti ci interessava quest'area che si era formata di doppio massimo area di resistenza area di resistenza coincidente anche amico sia avevamo un canale abbastanza ridere e su questa area abbiamo avuto dopo il test quindi sia il doppio massimo di breve statico ossia orizzontale che appunto il test della parteata del canale su questo doppio massimo si era formato un rsi in area di iper comprata abbiamo atteso la discesa del prezzo e poi il pullback e quindi andiamo a fare uno zoom per evidenziare l'operatività e quindi sul pullback o questo pattern ribassista poi successivamente anche questo in questa area che pratica ma di resistenza su di resistenza diamo come durante la risalita l'rsi non abbia la forza di tornare migli a comprata quindi è un probabile pullback nulla più c'è quindi una divergenza ribassista evidente ancora più evidente la divergenza ribassista sull'istogramma del b e anche il momento una sua divergenza ribassista quindi abbiamo un'area di resistenza chiara di brevissimo e torna avevamo visto sul abbiamo avuto due pattern ribassisti con divergenze evidenti su tutti gli oscillatori quindi all'incirca 134 e 77 abbiamo aperto il nostro short prendendo poi profitto durante la visita vi facciamo gli auguri a tutti gli iscritti al canale youtube di una eccellente pasqua al prossimo video e buon trading con trend